Il negozio online preferito dagli sportivi www.goldshop.com Al campo di Poggio Berni è 1-1 contro il Perticara, all'Atletic Poggio siamo qui con il mister Abramo Capozzoli, una partita dove non sono mancate occasioni da una parte e dall'altra, tuttavia equilibrata, i due regori hanno deciso la partita e anche nonostante il rosso al vostro numero 10 dell'Atletic siete riusciti a creare un paio di occasioni anche verso il fine del secondo tempo. Sì, direi una partita equilibrata, difficile, la posta in paglia era alta, meglio noi il primo tempo, meglio loro il secondo, quindi bisogna essere onesti, purtroppo poi siamo rimasti anche in dieci per un quarto d'ora, quindi la partita si è fatta ancora più dura. Consideriamo che oggi è la prima giornata di caldo, quindi abbiamo tutti quanti, chiaramente sia noi che loro, hanno sofferto un po' anche questo, perché fino adesso non è mai stato così caldo. Diciamo che abbiamo fatto una partita equilibrata, siamo stati bravi nel primo tempo a creare forse qualcosina in più noi, nel secondo tempo, ripeto, sono venuti meglio fuori loro, noi abbiamo sofferto un po', come dicevo, il caldo, poi qualche infortunio, e anche l'espulsione ha condizionato parecchio poi la partita. Comunque, come dicevi prima te, verso la fine siamo riusciti a creare un paio di palle che forse con un po' più di lucidità si poteva anche portare a casa la posta intera. Sì, un episodio, giusto velocemente, il secondo giallo, l'arbitro, si era dimenticato, secondo lei? Secondo me si era dimenticato che era già ammonito e una volta che poi l'arriamo unito non poteva tornare indietro. In questi casi qui io dico sempre che ci vuole, noi è la seconda volta che ci capita già un episodio del genere quest'anno, dobbiamo essere chiaramente più svegli noi, questo è sicuro, però anche gli arbitri devono capire la situazione, cioè era un discorso di parastinche, non era un discorso di un fallo o di un magari che l'ha mandato da quel paese, insomma sono cose che possono capitare, un po' il caldo, un po' che lucidità, forse un po' più di collaborazione, un po' più di dialogo servirebbero.